Dicono che al mondo per ogni uomo ci sono sette donne. Ecco, Andrea ce le ha tutte dentro casa. Dal regista di notte prima degli esami e maschi contro femmine, pazza di me. Dal 24 gennaio al cinema. Perché io? Perché? Finalmente un po' di pace. Speriamo. Andrea! Andrea! Tua sorella. Vieni, aiuto, corri! Che è successo? Sbrigati che l'ammazza! Ammazza? Ha detto l'ammazza? Ma chi l'ammazza? Cosa? Enzo, sta picchiando il fidanzato di Cicci! Ma chi cazzo è Cicci? La mia migliore amica! E perché lo sta picchiando? Ma... non lo so, così! Non lo so! Federica, dimmi perché si stanno picchiando! Vabbè, mi ha visto mentre baciavo il fidanzato di Cicci e sta incazzato! Aiutami, aiutami! Vieni qua! Prendi il remo, prendi il remo! Andrea, ci sto provando, non mettermi ansia! Ti spieghi perché ti stavi baciando col fidanzato della tua migliore amica! Ma non lo so! Io mi piaceva, io gli piacevo, gli altri facevano snorkeling! Ma annoiavo! Che cosa dovevo fare? Che cosa dovevo fare? Enzo! Enzo, calmati! Calmati, Enzo! Calmati! Sono Andrea! Io la conosco, Federica! Lei ti ama davvero! Per lei il sesso non conta niente! Eh? Enzo! Andrea! Non sa nuotare! Non sa nuotare! Ma è a fuoco! Ma neanch'io so nuotare! Giulia, pensaci tu! Che palle! Andrea, resisti! Pazze di me!